Continuando ad occuparci di calcio andiamo in Serie D, dove si registrano luci ma anche ombre. Nella stagione 2017-2018 le squadre buzzesi tornano ad essere inserite in un unico raggruppamento, il Girona F. Sono sette, il rigoroso ordine alfabetico Avezzano, Francavilla, L'Aquila, Nero Stellati Pratola, Pineto, San Nicolò e Vastese. Si danno battaglia nei tanti derby, cercano di inserirsi nella lotta a promozione, e considerando anche le ambizioni e gli organici di cui dispongono alcune squadre, Avezzano, Pineto e Vastese, su tutte. Tuttavia, sin dall'inizio del campionato c'è la situazione equilana, a destare molta preoccupazione. C'è uno stadio nuovo ed accogliente, il Gran Sasso d'Italia, tanta voglia di tornare nel calcio professionistico, ma il futuro è un grosso punto interrogativo. Passano le giornate, ma contestualmente si capisce che la società non è più in grado di mantenere gli impegni economici con i tesserati e con i fornitori. Nel corso del torneo vengono persino raccolte collette per fronteggiare le spese delle trasferte. Nonostante queste incertezze, la squadra Rosso-Blu, guidata da Pierfrancesco Battistini, sul campo corre e lotta proprio come vuole lo sport puro, anche se economicamente l'orizzonte è nero. A fine campionato l'Aquila ci entrerà persino i play-off, ma per l'iscrizione alla nuova stagione occorrerebbe un miracolo che non avviene, e così a luglio viene sancito il fallimento del club dopo vari annunci di salvataggi e fantomatiche cordate pronte ad intervenire in favore del calcio aquilano. Tutte illusioni e anche qualche presa in giro, la società Rosso-Blu alza bandiera bianca in un silenzio assordante. Una nuova società ricomincerà dalla prima categoria con la guida prestigiosa dalla panchina di Roberto Cappellacci. Altra nota negativa è la retrocessione in eccellenza dei Nerostellati Pratola, decretata tre giornate prima della fine del campionato. La matricola ha pagato lo scotto dell'inesperienza, ma comunque ha vissuto un bel sogno uscendo di scena a testa alta. Anche il solido francavilla del presidente Gilberto Candeloro, nome nuovo per il calcio, paga un po' il noviziato. La società è stata ripescata per completare gli organici. I giallorossi sfiorano i play-off alla portata senza una falsa partenza, dovuta ai tanti infortuni e a qualche scelta rivelatasi poco felice nell'allestimento della squadra. Manca l'accesso alla zona che conta, anche la vastese del presidente Franco Bolami, partita con grandi ambizioni e anche molto bene nel girone di andata, poi la lenta discesa. Hanno invece la soddisfazione di disputare i play-off Pineto, Avezzano e L'Aquila, di cui abbiamo già detto la formazione del presidente Vincenzo Brocco, ci approda con un cammino abbastanza continuo e grazie all'ottimo organico che ha a disposizione il tecnico Daniele Amaulo. L'Avezzano del presidentissimo Gianni Paris diventa protagonista assoluto di un girone di ritorno da favola, concluso senza sconfitte dopo una prima parte di stagione deludente. La squadra di Federico Giampaolo inoltre è quella che nell'ultima giornata di campionato batte in casa il Matelica, consegnando la promozione in C alla Vispesaro. C'è poi da salutare la fantastica e per certi versi insperata impresa compiuta dal San Nicolò. La compagine del presidente Salvatore Di Giovanni, abituata ad alcune stagioni a viaggiare nei quartieri alti della classifica, si trova a fronteggiare un campionato che strada facendo diventa sempre più difficile e complicato. La classifica diventa simile alle sabbie mobili, tanto che ad un certo punto la salvezza diretta diventa un miraggio. Così, come si fa con un malato sofferente, viene chiamato al capezzale Fabio Montani, che al termine di una rincorsa all'ultimo respiro riesce a conservare la categoria nello spareggio vinto con la Iesina. Sentiamo proprio Montani e il presidente Di Giovanni. Il mio pensiero va ai ragazzi, ai ragazzi perché secondo me hanno fatto qualcosa di inimmaginabile. Non voglio scomodare paroloni grossi come miracoli perché li lasciamo stare gli altri, ma questa è un'impresa epica, quindi il ringraziamento va loro perché hanno fatto una cosa meravigliosa. Questa per me vale come una vittoria di campionato, non un playoff, quindi decisamente meglio questa vittoria perché ce la siamo meritati. Ti dico che è stata una stagione travagliatissima, quindi difficilissima sotto tutti i punti di vista. Sin dall'inizio è iniziata male, ma per fortuna è finita bene e credo che la vittoria sia meritata. Il resto è storia più recente, dopo un'estate calcistica caotica e incerta, con i campionati scritti dalle sentenze dei tribunali. La stagione 2018-2019 riparte con sei abruzzesi, sempre inserite nel girone F. Al posto dei nerostellati c'è il neopromosso Giulianova, società blasonata e storica dove il calcio è vissuto ancora come un rito da vivere con preparativi ben precisi. Non c'è chi sostituisce l'Aquila, ma tant'è. Le altre sono Avezzano, Pineto, Francavilla, Vastese e la novità nel nome, ma non nella sostanza, del San Nicolo Notaresco Società, nata a fine luglio per evitare la continua migrazione, cui l'anno precedente è stata costretta a causa della mancanza di un idoneo impianto. Il nuovo torneo, inoltre caratterizzato dal fatto di essere più lungo, sono state inserite due formazioni in più e dalla presenza delle romagnole, tra cui la supercorazzata Cesena, che vuole tornare in fretta tra i professionisti. La società bianconera non va da spese per allestire e correggere in sede di mercato l'organico, senza contare che quando gli avversari giocano al Manuzzi si trovano di fronte platee da Serie B, considerando gli oltre 8.000 abbonati. Non è certo una bella notizia per le ambizioni delle altre e delle abruzzesi, che comunque sulla carta provano ad allestire rose competitive, ma a parte la strepitosa corsa iniziale della materica, chi comanda il termine del giorno di andata è proprio la formazione romagnola. Tornando alle nostre, da evidenziare la situazione della Vezzano, con il presidente Paris, che a dicembre lascia il timone societario dopo oltre otto anni. L'avvio di campionato non certo in linea con le ambizioni, ma anche uno spogliatoio poco unito, hanno indotto il numero uno marsicano, che peraltro aveva già annunciato altre volte di voler passare la mano, al cambio di testimone. I nuovi dirigenti, con il nuovo presidente Luciano Di Giovanni, peraltro già vice di Paris, hanno le idee chiare sin da subito. Via le grandi firme, mentre dal mercato si punta su qualche giovane che voglia correre per tutto il campo, grazie alle indicazioni del nuovo e navigato direttore sportivo Mauro Traini. Queste le prime parole del neopresidente. La prima idea è quella di salvare la stagione, pertanto di salvare la categoria, di sistemare tutte le vicende societarie che sono state lasciate in sospeso, per poi ripianificare al meglio quello che sarà la stagione che dovrà avvenire. Lei era già vicepresidente della società. È stato facile o difficile subentrare a Gianni Paris, un personaggio sicuramente che per tanti anni ha guidato la Vezzano? Beh, io credo che rivestire il ruolo di presidente di una società di calcio non sia mai semplice, soprattutto quando sei il presidente della squadra del cuore. Quindi no, non è stato assolutamente facile, ci sono molte responsabilità, molte situazioni da dover sistemare, quindi non è facile, però lavoreremo tutti insieme per risolvere. Secondo le previsioni le altre, il Pineto dopo una partenza lenta macina punti avversari ed è arrivato nelle zone che gli competono, i play-off. Anche il Francavilla di Paolo Rachini, con il presidente Candeloro sempre voglioso di primeggiare, punta dritto i play-off, come dire un gradino alla volta per poter costruire ambizioni più importanti nella prossima stagione. Il Giulianova, il giusto mix di esperti e giovani, può contare sull'entusiasmo, sul sostegno del Fadini e su un tecnico di categoria come Nico Stallone per centrare l'obiettivo prioritario della salvezza. Una menzione speciale per il notaresco dell'esordiente Mirko Cudini, squadra sorpresa del girone, ben messa in campo, con giovani under di qualità, gioca bene ed è spensierata, ovvero gli ingredienti giusti per continuare a stazionare nelle zone alte della gradatoria e prendersi tante soddisfazioni. Il 2019 è appena iniziato, la storia invece è ancora tutta da scrivere. Auguri a tutti!